musica 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 ci siamo, vediamo dopo come è arrivato all'arrivo eccoli ancora per poco eccoli come ancora per poco non esiste non pensassi ascolta non devi dirmelo sono arrivato il 27esimo e il 40esimo e ho perso il sole perché poi ci sono matti che sono certo che ho fatto anche io con l'intiata a torre in Venezia la facciamo così anche più piano con le interviste come va allora? a me se devi far fatica anche così uno dice l'ado piano non faccio fatica no sport bastardo c'era stato un punto che mi affianca una ragazza mi dice che chilometro siamo vengo 21 mi sta lì tipo lui poi va avanti chilometro siamo 22 così per 4 o 5 poi arriviamo a un punto dove inizia la discesa mi dice vai e ti faccio passare adesso no no vai pure tu tanto io sono lento l'ho perso via andata via franco allora questi allenamenti uguali uguali mezz'ora la mattina alle 6 al giovedì e questa è la domenica con voi fantastico hai fatto di niente fresco come una rossa tu Riccardo? dimmi dimmi sei pronto? non so per che cosa a cosa? alle lasagne si manca poco ormai Roberto eccoli qua come va? Bruno eh la merda è fresco Roberto come va la gamba? va male cazzo ho fatto quel torneo all'oratorio l'ho fottuto è l'oratorio che ci fa male voleva fare il figo voleva fare il figo e poi dai dai fate delle ripetute va che c'è Roberto eccolo la stima ti spiega ma aspetta vai Roberto stima scheverati I guai la gara è eliminatoria ahah è cheadaso è un natif trentesimo chilometro siamo rimasti solo in due rimarrà solo uno di Thailand fatica oh